4 aprile 1981 La polizia di Milano ha arrestato Mario Moretti, ritenuto uno dei capi più importanti delle Brigate Rosse. Si cominciò a parlare di lui il giorno dopo la strage di Viafani e del sequestro di Aldo Moro, quando la sua fotografia fu inserita in un volantone di terroristi ricercati diramato dal Ministero dell'Interno. Gli inquirenti lo considerano tra l'altro uno dei cervelli del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro e della strage dei suoi cinque uomini di scorta. Mi ricordo perfettamente l'immagine, un giovane con una copoletta che sfilava dietro un pulmino. E ho detto a Moretti mentre avevamo il caffè, ma guarda, un po' come battuta, non sarà mica che quello che non arriva ci ha mandato, invece di venire a lui ci ha mandato la polizia. E Moretti mi ha detto, ma cosa vai a pensare? Se tutte le volte che uno entra e che vede qualcuno entrasse in paranoia usciremmo tutti pazzi, non potremmo vivere cinque minuti in giro per una città. Invece avevo ragione io, perché poi siamo usciti dal bar, abbiamo girato l'angolo e ci sono saltati addosso. Grazie. 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 Grazie.